Il 5 Stelle è l'unico soggetto politico italiano ed europeo che continua a dare ascolto alla voce dei cittadini. Noi siamo entrati dapprima in Europa, abbiamo firmato trattati e poi siamo entrati in una moneta unica senza che nessuno abbia ascoltato la volontà dei cittadini italiani. Cambiare moneta e entrare nell'euro e abdicare la solidarietà monetaria nazionale non è come cambiare un semplice vestito, significa rinunciare a una delle cose più importanti che uno Stato può avere, la capacità di battere la propria moneta e quindi di esercitare comunque la sua influenza nel gestire l'economia nazionale. Questo è un momento nel quale i cittadini possono riappropriarsi della propria volontà e decidere in quale aura valutare e stare, in quanto l'euro ha dimostrato di non essere una valuta adeguata a quella che è la nostra economia e ha danneggiato la nostra capacità di esportazione e la nostra concorrenzialità sui mercati esteri. Grazie a tutti!